Non c'è dubbio che l'intelligenza artificiale è già nel mondo della comunicazione, già ci sta dando una mano a migliorare i processi, a migliorare la qualità dell'informazione e a ridurre i tempi di produzione di dati e di informazione sempre più all'altezza delle situazioni che dobbiamo affrontare. È fondamentale essere molto razionali, positivi, ritengo, e ottimisti nell'approcciare. E guardare agli aspetti che ci possono dare una mano, ci possono aiutare nel migliorare la nostra comunicazione. È chiaro che bisogna farlo in maniera etica, in maniera sostenibile. Di intelligenza artificiale se ne parla da oltre 70 anni, da Turing in poi. Ed è bene ricordarsi che difficilmente, se non impossibilmente, la macchina riuscirà a sostituire il cervello dell'uomo, riuscirà a sostituire le emozioni, l'emotività, la passione, il trasporto che ciascuno di noi ha.